Contruda! Ma appunto mi ha chiesto che non è buona mattina, no? Ma c'è... Che c'è, 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 c'è... Invece di stare a parlare di quanti campi ha, quante piscine ha fatto, quanti ne ha evitato, risolviamo la situazione della Pinaia in qualche modo, collaboriamo? Ma questa è la prima cosa, io ho parlato oggi con una delegazione, io ho parlato oggi con una delegazione di tre persone e abbiamo avuto un colloquio sereno dove io ho chiesto collaborazione, perché questi ragazzi mi hanno fatto prima di poterli avviare a dei piccoli lavori. Non sono... C'è lavoro per noi, ma non 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 c'è lavoro per noi, siamo disoccupati! Non c'è lavoro per noi, ma non c'è lavoro per noi, non c'è lavoro per noi, siamo disoccupati! Grazie a tutti.